Lo avevano preannunciato e così è stato. Questa mattina i lavoratori della nuova Ises hanno deciso la linea dura. Si sono incatenati innanzi all'ASL per avere risposte concrete, soprattutto celeri dopo la fumata nera in regione Campania. Sono quattro anni che ci stanno prendendo in giro dalla regione, palleggiano regione, ASL e non ci danno mai una risposta. Intanto noi stiamo continuando a lavorare e non percepiamo soldi. Siamo stanchi, siamo arrabbiati e vogliamo una risposta che sia positiva o negativa. Ma una risposta perché non possiamo continuare così. Abbiamo le famiglie, adesso arriva un Natale, loro si siedono i capi in testa, mangiano, festeggiano e di noi nessuno se ne frega. Per cui siamo non arrabbiati di più. Deve finire questa storia. Stiamo sostenendo questi ragazzi con i nostri soldi. Come stiamo facendo? Non lo so. Oggi è stata iniziata una protesta che non viene governata dal sindacato e potrebbe sfociare ancora di più. Non è una minaccia, è la constatazione dei fatti. Quindi chi ha responsabilità scendesse in campo nel senso di fare questo confronto e come diceva la lavoratrice prima, che sia ultima la storia. Noi abbiamo sempre detto dateci un vertetto che sia positivo o negativo, ma datelo. E a tutt'oggi sono latitante e dico ancora di più che da alcuni giorni in l'asilo di Salerni i vertici non si presentano più. E questa la dice lunga. Possiamo dire che il problema è squisitamente politico. Perché squisitamente politico? Perché quando tutti gli strumenti che questa azienda ha messo in campo hanno reso l'azienda accreditabile, da quel momento la Regione e l'Asla hanno incominciato il rimpallo di competenze. Non si riesce a capire perché non è possibile riaccreditare questa struttura. Nel frattempo invece si riaccreditano altre strutture e si accreditano altre strutture. Si ridistribuisce il tetto di spesa tra le varie aziende a favore di qualcuno, mentre a qualcun altro lo si nega. E questo è proprio indecente per i lavoratori, per le famiglie dei disabili. Ricordiamoci sempre che questi disabili da quattro anni sono mantenuti dai lavoratori. L'azienda, l'Asla, la Regione non sta contribuendo nemmeno al minimo per il sostentamento di questi disabili. Perché se questa struttura è chiusa questi disabili continuano ad essere in questa struttura? Questa è una delle domande che dovrebbe rispondere la Regione e l'Asla e non lo fa.